Mister Maizano a Genova Calcio, 2 a 2 nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Come valuta questo primo test dei due che ci sono e ci saranno contro l'Atletic? Lo valuto rispetto al risultato, risultato comunque positivo perché perdevamo 2 a 0. Abbiamo preso un primo tempo con troppi errori in fase difensiva. Bene l'Atletic comunque, che si è schierato con un sacco di seconda linea. Non vorrei offendere nessuno però, mi pare così, per dare riposo. Hanno fatto molto bene, ci hanno colpiti e poi abbiamo recuperato la partita. Forse si poteva anche alla fine portare a casa il giuntato pieno, però credo sia giusto questo risultato. Ecco la sensibilità delle squadre sulla Coppa Italia è sempre molto relativa. C'è chi ci tiene tanto e c'è chi gioca e basta. Mi permetto di dirti che la mia sensibilità per la Coppa Italia è altissima. Prima di tutto perché ne ho vinto due e vorrei vincere la terza prima di smettere. Per cui ci tengo tantissimo, perché questa squadra comunque oggi avrebbe dovuto fare un pochettino meglio. Per cui le mie valutazioni me le tengo sinceramente per me, su tutte le situazioni, anche per chi ha giocato, che aveva giocato un po' meno. Ma noi non l'abbiamo né sottovalutata, almeno come società e come allenatore. E nemmeno pensavamo di venire qui a fare una passeggiata. Quindi ci vediamo al ritorno, grazie mister. Grazie a te, ciao.